Ciao a tutti e bentornati su Dazbao, bentornati sul canale e come sapete con l'arrivo dell'estate mi sono chiesto che tipo di forma portare su questo canale almeno per il mese di luglio e così mi è venuta voglia di riabbonarmi a quello che è probabilmente il quotidiano satirico sulla geopolitica per eccellenza nel panorama italiano e cioè Repubblica e porca puttana neanche il tempo di riattivare l'abbonamento che ho riattivato oggi e già mi salta all'occhio uno di questi articoli comici che Repubblica ogni tanto propone ai suoi lettori e questa è la firma di Gianni Vernetti e si chiama Cina nuova sfida alla Nato che peraltro ci parla anche di una cosa interessante cioè di esercitazioni militari congiunte che la Cina sta tenendo in Bielorussia è un fatto inedito, abbiamo soldati cinesi nel territorio europeo quindi sicuramente vale la pena commentarlo però anche inserendolo diciamo nella sua giusta dimensione senza dare sovra interpretazioni come invece tende a fare Gianni Vernetti in questo articolo che vi leggerò, non vi mostro la parte a pagamento ve la citerò giusto per avere un po' idea di che cosa stia parlando ma stiamo pure nella parte iniziale quando ci dice che a poche ore dall'avvio del vertice Nato di Washington la Repubblica Popolare Cinese ha annunciato la realizzazione di manovre militari congiunte tra l'esercito di Pechino e quello della Bielorussia nel cuore dell'Europa perché notoriamente la Bielorussia è il cuore dell'Europa almeno così è stata promossa in questo articolo che ci dice anche che queste esercitazioni militari chiamate Eagle Assault 24 si terranno dall'8 al 19 luglio quindi sono incominciate oggi e saranno nella città di Brest a pochi chilometri dalla frontiera della Polonia e dell'Ucraina alle porte dell'Alleanza Atlantica e a pochi chilometri dalla frontiera dell'Ucraina ma andando avanti scopriamo anche il commento che l'articolo dà alla questione e ci dice che con queste esercitazioni che iniziano oggi Pechino compie un oggettivo salto di qualità inviando proprie truppe al confine della Nato e nel cuore appunto dell'Europa e il segnale della Cina e dello stato vassale di Mosca a Bielorussia alla Nato è chiaro siamo alle porte dell'Europa non si capisce se sono nel cuore o se sono alle porte qua la definizione cambia in continuazione ma in ogni caso ciò che sappiamo per certo è che l'asse tra le autografie è ormai una realtà politica e militare per i 32 paesi dell'Alleanza Atlantica la minaccia di Pechino all'ordine internazionale fondato sulle regole e sui diritti da oggi assume contorni nuovi e poi vabbè l'articolo va anche avanti ci parla e ci parla di altro però non ci parla di una cosa cioè del motivo per cui ci sono queste esercitazioni cioè dell'obiettivo di queste esercitazioni questo non viene citato minimamente ma giornali un po' meno satirici ce lo dicono prendiamo ad esempio il Guardian e ci dice che queste esercitazioni sono esercitazioni anti-terrorismo sta parlando proprio di queste cioè Eagle Assault 2024 e che hanno come obiettivi il recupero di ostaggi e operazioni di antiterrorismo quelle operazioni di difesa verso attacchi non convenzionali quindi questa cosa può essere una minaccia una nuova sfida alla Nato sì ma solo se la Nato aveva intenzione di condurre attacchi terroristici o non convenzionali nella Bielorussia ecco in quel caso sì queste operazioni queste operazioni di militari congiunte potrebbero effettivamente mettere un problema a intenzioni di questo tipo ma ovviamente non sono intenzioni che possono essere dichiarate infatti nessuno formalmente si è lamentato di queste esercitazioni anti-terrorismo nessun paese della Nato intendo anche perché lamentarsene vorrebbe implicitamente dire che si ammette di voler condurre operazioni di questo tipo per cui stiamo parlando di qualcosa che peraltro avviene all'interno di una organizzazione sulla sicurezza che nasce proprio come lotta al terrorismo cioè la Shanghai Cooperation Organization quindi vale anche la pena parlare un po' di questa organizzazione se non altro perché ha avuto il suo vertice sul finire della settimana scorsa e tra i risultati di questo vertice c'è stato proprio anche questo cioè l'annessione della Bielorussia l'ingresso della Bielorussia all'interno della Shanghai Cooperation Organization e questo è effettivamente un fatto interessante non è strano che si tengano operazioni anti-terrorismo in Bielorussia se non altro perché la SCO la Shanghai Cooperation Organization nasce proprio come un framework per contrastare il terrorismo nell'Asia centrale nasce nel 2001 e ha come nucleo centrale nucleo fondante proprio i paesi dell'Asia centrale dal Kazakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirjikistan insieme alla Russia e alla Cina perché è lo scopo e siamo nel 2001 è un anno chiaramente molto interessante per il terrorismo un anno che fa da svolta e non a caso l'intenzione della Russia e della Cina è proprio questo cioè avere un framework per controllare il terrorismo nell'Asia centrale e la questione afghana nasce proprio quell'anno lì però poi le cose cambiano come vedete da questo grafico che rappresenta l'ultima espansione della SCO cioè quella del 2023 si vede come da quel nucleo centrale dell'Asia centrale appunto si è passati invece ad una proiezione assolutamente asiatica completamente asiatica con l'ingresso dell'India che avviene se non sbaglio nel 2017 e con l'ingresso anche dell'Iran che avviene invece nel 2021 quando l'Iran si completa il processo di ingresso e poi abbiamo anche sempre paesi del Medio Oriente, del mondo arabo che diventano dialogue partner della Shanghai Cooperation Organization abbiamo anche paesi della Nato ecco oltre all'asse delle autocrazie e così chiama la SCO ma poi all'interno abbiamo l'India come si vede che è un paese che invece noi non definiamo autocrazia abbiamo paesi della Nato ecco la SCO minaccia la Nato ma a dialogare con la SCO ci sono paesi della Nato è sicuramente interessante come sia la Turchia e sia soprattutto la Bielorussia che invece è un membro a pieno titolo da quest'anno cambiano ancora, in qualche modo aggiungono un'altra caratteristica a questa organizzazione cioè trasformarla di fatto in un'organizzazione che è una proiezione eurasiatica in senso più compiuto ecco l'ingresso della Bielorussia nella SCO ci dice soprattutto questo e ci parla insomma di una nuova tappa di espansione della Shanghai Cooperation Organization la Bielorussia non è né il cuore né alle porte dell'Europa la Bielorussia è nel continente europeo non è il cuore dell'Europa secondo l'Europa intendiamo l'Unione Europea evidentemente non è certo il cuore anche perché non ne fa nemmeno parte ma in ogni caso è nel continente europeo non è alle porte dell'Europa ma è in Europa e questo ci delinea questa dimensione eurasiatica appunto della Shanghai Cooperation Organization che tra le cose a cui serve c'è anche questo cioè la lotta al terrorismo non è in senso stretto una minaccia alla Nato non è un'alleanza militare che si contrappone alla Nato non potrebbe neanche esserlo perché ci sono paesi che sono nella Nato come la Turchia o paesi come l'India che non avrebbero nessuna intenzione di opporsi direttamente alla Nato, agli Stati Uniti o quello che è lo stesso modo la SCON in sé non minaccia in alcun modo l'ordine internazionale basato sulle regole come dice Gianni Vernetti su questo articolo di Repubblica e vale la pena chiederci se sa di cosa parla quando parla di questo ordine internazionale basato sulle regole perché si sta parlando di ordine liberale basato sulle regole del libero mercato ecco sostanzialmente è questo l'ordine internazionale basato sulle regole è quello che affianca l'ordine del diritto internazionale che si base invece sull'organizzazione delle Nazioni Unite due cose che non si escludono una con l'altra si affiancano ma l'istituzione più rappresentativa dell'ordine liberale basato sulle regole del libero commercio è sicuramente il VTO ma che è un'organizzazione paralizzata ormai da anni è da anni che non esiste questo ordine internazionale basato sulle regole non che non esiste ma che ha subito delle forti limitazioni da quando è scoppiata la guerra economica commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti perché è chiaro che quando due paesi che hanno rappresentato i due pilastri della globalizzazione almeno dagli anni 70 in poi il matrimonio economico tra Stati Uniti e Cina è quello che ha dato la forma alla globalizzazione e almeno quella che abbiamo vissuto che stiamo ancora vivendo ma che sta subendo una fase di revisione inevitabilmente lo si vede abbastanza evidentemente e ciò che accade è che quando questi due paesi che hanno fatto da pilastri che hanno dato forma alla globalizzazione entrano di fatto in una guerra economica commerciale beh è chiaro che le istituzioni che hanno presieduto questa globalizzazione entrano in crisi come il VTO che per l'appunto è stato paralizzato da Trump in poi anche perché la paralisi del VTO era assolutamente necessaria per poter avviare quella politica protezionista di dazi e di tariffe verso con il commercio con la Cina partendo dall'acciaio e poi anche con Biden abbiamo avuto oltre che la riconferma della paralisi del VTO anche un aumento di questi dazi un aumento di queste tariffe ecco il divorzio ecco se abbiamo avuto un matrimonio economico dagli anni 70 in poi beh dall'amministrazione Trump in poi che invece abbiamo un divorzio un decoupling un disaccoppiamento un derisking chiamiamolo un po' come vogliamo ma questo è il divorzio tra il principale dei paesi sviluppati cioè gli Stati Uniti e il principale dei paesi in via di sviluppo nonché fabbrica del mondo cioè la Cina ed è chiaro che un divorzio di questo tipo mette assolutamente in revisione l'ordine internazionale basato sulle regole ma non le esercitazioni cinesi in Bielorussia questo non contano niente nemmeno lo SCO che in realtà ha a che fare con la sicurezza con l'antiterrorismo all'interno del contesto dell'Asia centrale o dell'Asia in generale ecco e basta insomma questo era quello che c'era da dire su questo articolo sicuramente interessante perché ci parla di un fatto interessante di un fatto inedito questo sì cioè delle esercitazioni cinesi in Bielorussia forse non vale la pena sovrainterpretarlo vale la pena condurlo al framework nel quale è inserito cioè quello della SCO ma in ogni caso è un tassello in più di un mondo che cambia di un ordine di politica internazionale che si sta evolvendo io vi saluto vi ringrazio per essere arrivati fino a qui e ci vediamo ci vediamo come al solito al prossimo video